numero 5 astuccio 3 scomparti essay lunga gang fantasia da essay lunga rosa completo di tutto penne matite colorate pennarelli per rendere ogni tuo giorno di scuola un piccolo grande capolavoro all'interno troverai una penna cancellabile tratto cancellic una penna rossa una matita lira temagraf una gomma colla giotto stick temperino righello forbici 18 pastelli giotto laccato 18 pennarelli giotto turbo color sceglilo del colore e della grafica che più ti piacciono o che meglio si abbinano al tuo zaino o trolley numero 4 astuccio 3 scomparti essay lunga gang completo di penne matite colorate pennarelli dentro l'astuccio essay lunga gang trovi tutto il necessario per la scuola all'interno troverai una penna blu cancellabile tratto una penna rossa gomma colla giotto stick temperino righello forbice 18 pastelli giotto laccato 18 pennarelli giotto turbo color sceglilo del colore e della grafica che più ti piacciono o che meglio si abbinano al tuo zaino acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 un vero e proprio insostituibile e compagno di scuola assicurati di avere nello zaino il tuo astuccio attrezzato 7 all'interno troverai una penna sfera cancellabile tratto cancellic blu una penna sfera tratto rossa 18 pastelli giotto laccato 18 pennarelli giotto turbo color una matita grafite una colla giotto stick gomma temperino righello forbice in metallo con maniglia in plastica numero 2 astuccio 3 zip invicta all'interno troverai 18 pennarelli giotto turbo color una penna sfera cancellabile tratto blu una penna sfera tratto rossa 18 pastelli giotto laccato 18 pennarelli giotto turbo color una matita grafite una colla giotto stick una gomma un temperino un righello una forbice con maniglia in plastica triplo scomparto e apertura con zip disponibile anche in altre fantasie se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 astuccio scuola a tre scomparti principesse disney completo di 44 pezzi 18 matite colorate carioca 18 pennarelli giotto turbo color due matite grafite due penne a sfera blu e rossa una gomma un temperino un righello una forbice stampa serigrafica alta qualità con tanti dettagli glitter che rendono il tuo astuccio ancor più bello licenza ufficiale disney